Colpi Cosa vuoi Medi cecchino se ce l'hai ma Quanto ce n'hai da cecchino? 10 Tanto non ci arriva manco, cioè ci arriva a caso però Sono quattro mongole Stanno costruendo ma sono quattro mongole Preso! Fre! Nooo! No beh! L'ho clippato, l'ho clippato, l'ho preso No beh, no beh fatto 190 metri col razzo No beh fatto Venti in macchina, venti in macchina qua Cosa vuoi Venti in macchina la gara No! No